Enrico Sbardella, raduno a Formia per la Nazionale del 19 in vista del torneo di La Manga che sarà un crocevia importante di preparazione per la fase elite dell'europeo. È un torneo importantissimo, è un momento importante, è un momento di verifica, è un momento per capire qual è il nostro stato di forma e soprattutto per capire con quale aspettativa andremo a affrontare la fase elite. Ci stiamo preparando al meglio in questo splendido posto dove si respira sport a 360 gradi e quindi speriamo che possiamo ripercorrere quello che è stato fatto lo scorso anno. Affronteremo tre squadre assolutamente importanti perché Islanda, Norvegia e Olanda si sono qualificate, peraltro Norvegia e Olanda hanno vinto il loro girone nella prima fase elite. Come dire, test assolutamente di alto livello? Il torneo di La Manga è un test sempre, tutti gli anni, di altissimo livello, quest'anno lo sarà ancora di più e ci aiuterà a prepararci al meglio per affrontare poi quelle che sono le partite della fase elite. Islanda, Norvegia e Olanda naturalmente sono nazioni in cui il calcio femminile in questo momento ci sta un gradino sopra. Noi stiamo rincorrendo ma sappiamo di essere bravi, sappiamo che abbiamo quel qualcosa in più che magari quello che loro acquistano nella fisicità noi riusciamo a metterci dal punto di vista tattico e soprattutto della fantasia e quindi saranno tre partite molto belle, interessanti, dove il risultato sarà un attimino in secondo piano rispetto alla prestazione perché vogliamo capire veramente dove possiamo arrivare quest'anno. È una step intermedio dunque in vista della seconda fase elite, in aprile in Scozia, contro Scozia, Russia e Repubblica Ceca. Che avversari troveremo e quante possibilità abbiamo considerando che soltanto la prima si qualificherà? Sicuramente lo scorso anno partivamo con una penalizzazione maggiore perché affrontavamo nello stesso giro in Norvegia e Svezia oltre alla Serbia e facemmo un girone di qualificazione fantastico e nell'ultima partita contro la Norvegia riuscimmo poi a qualificarci proprio come prima. Quest'anno non è da sottovalutare anche se magari le nazioni possono essere, le squadre possono essere meno blasonate in campo femminile, sicuramente quella più temibile è la Repubblica Ceca che vale un po' a noi a livello di performance e poi avremo Scozia e Russia che sono sempre comunque due squadre, e ce lo insegna la nazionale maggiore contro la Russia allo scorso europeo, che sono sempre temibili e vanno sempre affrontate con il massimo rispetto. Quindi massima serietà nell'affrontare gli avversari e grande, grandissima lucidità nell'affrontarle per poter andare avanti. Penso che un buon 60% ce l'abbiamo dalla nostra, ma ogni partita insomma ci insegna quello che è poi l'inizio, va sempre riscontrato sul campo. Cercheremo come sempre di impegnarci per portarlo a termine. Allora grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao.